La festeggiata dov'è? Non c'è, non c'è. Eccola la festeggiata dov'è. Buongiorno nonna. Auguri ai nonna. Eccola la festeggiata dov'è? E' arrivato tardi. E' arrivato tardi a soffiare. E' arrivato tardi a soffiare. Buongiorno nonna. Buongiorno nonna. No, non c'è. No, non c'è. Aspetta, aspetta. Davide vieni che cattiamo tanti onori alla nostra. Ma non va perché non c'è la mia. Vieni, vieni. Tanti onori. Ora spegniamo. Non sei capace di farla. Evviva Davide. E' una carrellata. E' evidente me che sono uccisi. No, no, no. Sono tutti in fila però. No, no. Gli hai dato il bacino alla nonna mia Davide? Che fai già? No, no. No, no. Uno con l'abbraccio. Uno con l'abbraccio Davide. Davide, vieni che devi dare uno con l'abbraccio però, la devi abbracciare. Abbracci piano piano. Ciao. Ciao. Non la far toccare Ma le hai di striscio? Non la far toccare Non si riesce Ho fatto una ripresa all'uovo Guarda che belle oveste che abbiamo Hai visto? Prendiamo gli puttini Praticamente faremo il processo di uscire Sono vestito adesso Sono sempre in battaglia Non ho preso le foto La PS2 La PS2 è 60 euro Però ci devi